Crescono i pagamenti digitali in Italia. Nel 2022 hanno superato i 100 miliardi le operazioni con carte di credito, sebbene il numero di carte attive sia sceso a 13,4 milioni. Dalle tabelle della Banca d'Italia risulta che sono 224 miliardi le operazioni con carte di debito, come il Bancomat, più 21% rispetto al 2021. E nel 2022 sono aumentate anche le operazioni effettuate con i bonifici a 9 mila miliardi di euro.